Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. È cominciato il Champions Chess Tour 2023, uno dei eventi più importanti ormai negli scacchi, è una serie di tornei online che poi concludono con un evento in presenza tra i migliori, quelli che sono qualificati in piaciamento migliore nelle fasi iniziali. Quindi, appunto, nella fase di qualificazione si è giocato il match tra Nakamura e Ksu ed è la partita che ho scelto per questo video, vediamolo subito. Nakamura comincia con D4, anzitutto se non l'hai già fatto ti vedo il sito di YouTube, cliccando qui sotto e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. È una partita molto interessante, super combattuta che ho scelto di portare in questo canale, D4 con l'F6 al fine di G5, quindi attacco Tromposchi scelto da Nakamura. D5, E3, C5, cavalli in D2, fin qui tutto è normale, chiaramente il nero cerca di contraattaccare al centro con C5, quindi attaccando il pione D4. Questa è una mossa molto attiva da parte del nero che non vuole subire l'attacco del bianco. Non ci si deve preoccupare della presa sul colline F6, si può giocare, non è sbagliata da parte del bianco, ma il nero tranquillamente può riprendere anche con il pione G. Volendo è uguale, cioè il pione non è sbagliato, però il pione G è un po' più attiva, quindi se vuole probabilmente cercare anche di vincere, la cattura col pione G non è scorretta. L'idea è che poi la spinta in E5 diventa veramente forte e inoltre si può sfruttare la colonna G. Quindi non preoccupatevi della impedonatura nella colonna F. Cavalli in D2, cavalli in C6, sviluppo dei pezzi, C3, E6, al fine D3, al fine E7, cavalli F3, arrocco, arrocco, B6. Si conclude quindi la fase di apertura, tutti i pezzi sono stati sviluppati da parte del bianco, ora deve scegliere un po' il piano in medio gioco. Qui la mossa più giocata, la mossa teorica in questa linea è cavalli in E5, ma Nakamura sceglie torri in E1. Non so se è perché voleva uscire dalla teoria, oppure, beh, almeno non si ricordava tutta la linea teorica, però probabilmente voleva semplicemente uscire dalla teoria. Infatti quale E5 è stata super giocata da tantissimi grandi maestri, quindi sicuramente XU era ben preparato in questa linea, che, giusto per curiosità, continua con il cambio di tutti i pezzi e poi la difesa del pioniere E5 con F4. Qui la posizione è assolutamente pari, anche se personalmente proviene il bianco, perché ha differenti idee di attacco contro la Rocco, però il nero riesce a difendersi, per esempio, con F5. Torniamo alla partita. Torri è una mossa molto più tranquilla, non è affatto sbagliata, è una mossa posizionale. Si posiziona appunto la torre nella colonna E, che in futuro potrebbe essere aperta con E4, e quindi si cerca poi di avere un vantaggio posizionale grazie a questa colonna. Il nero sviluppa il suo ultimo pezzo in fianchetto in B7, cercando appunto di sfruttare questa diagonale. Cambio dei pedoni E4, H6, H4, D per E4, cavallo per. Fin qui tutto tranquillo, ma tra poco la partita si accende, perché il nero trova un modo di attaccare molto molto interessante. Cambio dei cavalli, presa di torre da parte di Nakamura, alfiere per alfiere, cavallo per, F5. Dunque, bellissima mossa di XU, una mossa molto attiva, che comincia a chiarire molte cose. Qui XU vuole cercare di vincere. F5 è molto interessante, perché la regina attacca il cavallo, il pedone attacca la torre, e quindi questa torre non ha molte case. Non può ovviamente catturare in E6, se no cade subito il collino in H4, quindi deve mantenersi nella quarta traversa, lasciando la sua colonna E. Quindi comunque va in una posizione un po' scomoda. In F4 non è il massimo, non so se addirittura si può giocare G5, forse è un po' avventato, però comunque vi è questa forchetta, e quindi Nakamura sceglie di rifugiarsi in A4. Questa torre, però in A4, non è certamente il massimo. A parte difendere il cavallo in A4, ok, attacca il pedone A7, però non è pulizionata bene. E quindi Ksu comincia a poco a poco a creare un attacco all'attacco di re, quindi porta tutti i suoi pezzi all'attacco di re. L'alfiere è già pronto, sta puntato il pedone G2, arriva anche il cavallo, la regina potrebbe pure arrivare in un attimo. L'alfiere F1, Nakamura si accorge che la posizione è un po' critica, propone un cambio di regine, che viene rifiutato categoricamente da parte di Ksu, Xiang Yu, e gioca Nakamura, gioca F6, e Nakamura risponde con F4. F4 blocca la difesa sul cavallo in H4, però minaccia il cavallo in E5. In realtà è una mossa che va benissimo al nero, questo cambio, perché? Perché è vero che si elimina un attaccante, il cavallo in E5, che era pronto a saltare in G4, ma si elimina anche l'unico, o meglio, no, viene anche l'alfiere F1, comunque uno dei due difensori nel lato di re. Quindi ora l'alfiere continua a puntare su G2, la regina è già pronta ad attaccare, e c'è solamente l'alfiere F1 che sta difendendo il re. Certo, la regina non è tanto distante, però se continuiamo ad attaccare i difensori, il numero di attaccanti è superiore, quindi vi potrebbero essere idee interessanti da parte del nero per concludere questo attacco. E allora, donna in G5, la regina è attaccata, quindi si deve muovere, donna in E1, F4, perché F4? Perché si vuole attivare anche la torre, e inoltre si sfrutta un elemento tattico, qual è l'inchiodatura. Infatti il peone G2 è inchiodato e quindi si minaccia F3. Qui su donna F2, però, su non ha giurato F3. Non sono riuscito a capire il motivo, ci ho pensato un poco durante la partita, perché qui F3 è la mossa più logica. Avrà sicuramente analizzato una linea, vediamo quanto ha pensato. Lui ha giocato torre in D8, in realtà ha pensato poco, ha pensato solo 10 secondi. E ha giocato proprio l'ampo. Quindi, evidentemente non ha analizzato a fondo. E allora, un'idea che mi viene in mente potrebbe essere che F3 ha pensato G3 e il bianco si difende, però in realtà non è così. Perché ora torre in D8 è molto più efficace, perché minaccia torre in D2. Qui Nagamura è praticamente spacciato. L'attacco sulla rocco bianco sembrerebbe aver avuto un grande successo. Non so veramente qua come il bianco possa difendere. Si arriva torre in D2, poi F2, si apre a diagonale, insomma, la partita è finita. O anche torre in D2, poi donna H5 e si attacca il primo H2. Tantissime idee. Invece, giocando prima torre in D8, questa inversione di mosse cambia tutto. Il bianco riesce a difendersi. Torre per A7 riesce a difendersi attaccando. La migliore difesa è l'attacco. E quindi torre per A7 attacca l'alfiere. A questo punto F3, ovviamente, non si può giocare. Se no, o meglio, non so. Sto pensando F3, torre B7, torre in D2. Qui il bianco l'è comunque messo bene. Ah, ok, ma si salva con H4. Si salva con H4. Perché la regina deve stare a difesa della torre. Quindi non può mantenere la pressione sul piole in G2. E quindi mi sa che riesce a salvarsi. Sì, banalmente su donna F4 si può catturare perché non è il pregidio nel più inchiodato. Quindi torre per A7, bellissima mossa da parte di Nakamura. Una difesa appunto attaccando. F3 è evitata. Torre in F7. H4. E a questo punto non c'è più tempo per giocare F3. E quindi Nakamura rientra in partita. In un attimo la partita era praticamente finita. Bastava due mosse precise. XU aveva completato il suo attacco fortissimo. E invece Nakamura rientra in partita. Torre in E1. Attiva la torre Ida1 che non stava giocando. Donna in B8. Torre per B7. Fare il viso di qualità. Perché? Perché vuole eliminare questo alfiere che era veramente un mostro in questa diagonale. Da tantissimo fastidio. Lo elimina. E si ritrova. In questo finale con uno svantaggio di qualità. Ma assolutamente giocabile. Qui si può tranquillamente pareggiare questo finale. Perché? Perché comunque i pedoni del nero sono molto deboli. Quindi se cominciano a cadere uno dopo l'altro il finale è tranquillamente pareggiabile. Torre in D7. Torre per E6. Cade il primo. Torre in D2. Torre in E2. Scambio delle torri. Donna in E5. Attaccando il pedone C3. A4. Quindi si disinteressa del pedone C3. Ma si spinge il pedone passato. Donna per C3 non è una buona mossa. Perché? Perché probabilmente il bianco può difendere il pedone B3 con lo scacco. E poi cattura il pedone F4. Quindi è semplicemente uno scambio di pedoni. E quindi A4. G5. Su non cattura il pedone C3. Pedone per. Pedone per. Donna in F3. La partita però non è affatto finita. Perché ora seppur il fiale come ho detto. Questo potrebbe indirizzarsi verso la parte. In realtà. Su. Riesce a trovare un modo per. Mettere in crisi. Icaro Nakamura. A5. Un concetto importantissimo nei finali. I pedoni passati vanno spinti. Quindi quando non avete. Tante idee. In un finale. Non sapete. Ad esempio in questa posizione. Il bianco non ha. Idee di attacco. Sono tutti i pedoni. Pulizziati benissimo. Qui su è stato super preciso. Pulizziato i pedoni. In casa scura. In questo modo. L'alfiere bianco. Non può attaccarli. E non ha praticamente debolezze. Vi è solo la torre in D8. In difesa. Ma il bianco non può attaccarla. E allora. L'unica idea. Ed è quella corretta. E. Spingere il primo passato. A5. Torre in D2. Attacando l'alfiere. Rene F2. Torre in A2. Le torri vanno sempre dietro. I pedoni. In questo modo. Le controllano più facilmente. Hanno maggiore. Libertà. Quindi anziché mettere una torre in A8. A prescindere dal fatto. Che vi è la regina. Meglio metterla. Nella. Dietro il pelone. Quindi per esempio in A2. A6. Donne 6. Rene F1. Torre a 1 scacco. E attenzione qui. Perché Rf2. Torre in A2. Ok. Qui probabilmente. Ripetizione. Semplicemente per. Capire come vincere. Con 7 secondi dell'orologio. Su trova la bellissima. C4. Con l'idea di aprire. E questa diagonale. Fondamentale. Perché dopo. Non è per. Torre uno scacco. Rene F2. Boom. Scacco matto. Scacco matto. In una mossa. Unica. Donne 3. E poi. Si cattura. E quindi. Nakamura. Ovviamente. Si arrende. In realtà. L'errore dovuto. Chiaramente per il tempo. È stato qui. Poteva giocare ancora. Al piede di 1. Però. Qual è il problema? Che. C4. C4. Insomma. E qui. Il nero. E il bianco perde. C'è che cosa da fare. Dopo tempo. Ha giocato subito. F2. E si è preso. Il matto. Con la regina. E quindi. Ksu. Batte. Ikaru. Nakamura. Ditevi nei commenti. Che ne pensate di questa partita. Se vi è sembrata. Affascinante. Interessante. Ditevi tutto nei commenti. E se state seguendo. Questo torneo. In cui giocano. I migliori. Grandi maestri. Di scacchi. Ci vediamo alla prossima. E vi chiedo. Lascio un like. Se vi piuttosto il video. Ciao.